buongiorno ragazzi benvenuti nel mio nuovo video come vedete sono vestita la mamma perché oggi fa la mamma per un giorno davvero il presento è di mia figlia ora ragazzi le bebagliamo insieme da mangiare benissimo marty ci fai vedere come gli dai da mangiare allora e cosa abbiamo qui in cucina il pollo che per me stiamo preparando il pollo ok questo è perché prima un po di latte prima di questa è la cucinina quante cose che hai marty in cucina anche i dolcenti al forno abbiamo ora vi faccio vedere come gli beppano la pasta e emily mettiamo emily seggiorno spostiamo le altre cose perché devo cucinare le spostiamo attenta che non si bruciano e fa vedere che punto sta pure l'insalata ci hai messo ma guarda è proprio attrezzata con tutti gli attrezzi della cucina anche la pasta spaghetti per prima cosa mettiamo la petra va bene accendiamo va bene anche l'acqua certo perché la minestrina si fa con l'acqua ok quando bolli ci aggiungiamo la pastina sta bollendo si sta cuocendo veramente bene e aspettiamo 5 minuti 5 minuti va bene ora che è quasi cotta ci aggiungiamo un po di sale benissimo così è più saporita adesso la aggiungiamo bene benissimo sarà sicuramente buonissima questa pastina ecco ora per l'olta è quasi pronta ora che è cotta lo mettiamo nel piattino speriamo la mangia tutta poi devo mangiare l'olta è un po di umanizzato di umanizzato a che cos'è che gusto è pollo deve essere veramente buono deve essere veramente buono e diamo 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 po di pollo bello che bel bavaglino marty grazie con questo è impossibile sporcarsi eh sì ecco la pappa di emily bravissima come mangi bene adesso che mi era finita le vogliamo la boccuccia eh sì sei un po' sporcata in effetti vabbè piccolina è piccolina certo adesso che mi era finita di mangiare le tue bavaglino poi la faccia domettare con la ninna nanna va bene marty così ci fai vedere come dormi emily ecco tolto il bavaglino questo bimbo a chi lo do questo bimbo a chi lo do lo darò all'avefana che lo tiene una settimana lo darò al lobo nero che lo tiene un anno intero lo darò al lobo bianco che lo tiene finchè stanco ninna na na ninna questo bimbo lo darò vedete ragazzi che si è addomettata la facciamo piano allora mettiamola sull'ettina a dormire lasciamola addormentare copriamola copriamola e ci vediamo dopo allora quando si sveglierà vediamo se ha fatto la cacca emily va bene marty vediamo un po' lì ci sono anche le salviettine ahhh ha fatto la cacca appunto piangeva no ma ha fatto la cacca poverina appunto piangeva mmm ragazzi gli facciamo pure un bagnetto e ciocco e ciocco va bene marty facciamoglielo facciamolo così profuma tutta eh si bravi almeno si rinfresca un po' eh si ecco lì oh che carina questa vasca splash mamma mia sarà veramente contenta di lavarsi e di pulirsi un po' bagniamo prima un po' tutta le bollicine anche perchè lei è un po' piccola ecco perchè vediamo fare sempre un bagno ah ci stai mettendo anche un po' di sapone ok e adesso un po' di acqua ma ti piacerà Demily? mmm si adesso facciamo pure un po' di occhi il sapone ui si è tagliata tutto il sapone in testa tutto in faccia poverina non glielo mandare dentro gli occhi poi ti darà fastidio un po' di schiuma tutta la schiuma tanta eh ai bambini ti piace la schiuma quando si lavano infatti sarà sicuramente profumata i capelli i capelli il fiocco il fiocchetto i piedini è la valice 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 schiuma i piedini bene bene adesso asciughiamo da osla Emily eccola nel suo cappatoio carina un po' di capello così la asciughiamo e la vestiamo con i nuovi vestitini che c'ha ora ora lo sciogliamo i capelli i pochi capelli i capelli i capelli i capelli i capelli i capelli i capelli adesso asciugate le vado a prendere le vestitini pulite va bene ecco facceli vedere che carini i mutandine pulite vestitino con i fiorellini eccolo finalmente i mutandine senza la sua popò pulite che non lavate certo gliele mettiamo bene bene spero che vi abbia piaciuto il mio video da mamma seguitemi nel mio prossimo video ciao ciao Marti è stato bellissimo un giorno da mamma